bentornati ragazzi sul canale siamo sempre qua nel villaggio full timer come prima cosa devo ringraziare roberto benny benassi che saluto bro king vero ti aspettiamo qua come ti ho detto che ha acquistato due tazze dal villaggio full timer dal sito al negozio online e poi mara che sarebbe la moglie compagna di edo 4x4 king anche lui che ho incontrato anzi che abbiamo incontrato quest'estate con monica in salento in puglia che hanno acquistato una maglietta che cazzo ha acquistato la maglietta da uomo la tazza e la bottiglia in alluminio grazie ragazzi veramente per questo piccolo gesto che per noi vuol dire veramente tanto poi infine ringraziamo sergio donofrio che ci ha inviato su paypal 50 euro con scritto il messaggio è stato un piccolo contributo bro grazie grazie ragazzi veramente come sapete lo dico sempre però non si finisce mai di dire questa cosa qui perché i profitti che noi ricaviamo dalla vendita dei gadget non la mettiamo in tasca ma li rinvestiamo volevo anche chiedere visto che si può usare anche per questo il canale noi stiamo cercando delle mattonelle da giardino il problema qual è che una volta c'erano come si dice dei fondi di magazzino adesso non ci sono più perché le vendite vengono fatte soltanto su ordinazione quindi abbiamo visto che piavani i prezzi sono dai 15 ai 16 euro sinceramente per quello che vogliamo fare noi che poi vi farò vedere diventa una spesa allucinante quindi se qualcuno avesse dei contatti di ami tramite amici conoscenze che abbia mattonelle come da giardino che ne so 40 per 40 di 46 mm adesso oggi si guarda lo scrive nei commenti ci mettiamo d'accordo oppure magari se sopra una certa quantità ci fa un buon prezzo perché come ripeto noi le abbiamo trovate solamente dai 15 ai 16 euro al metro quadro mi sembra una roba del genere comunque vabbè ieri abbiamo iniziato anzi andiamo insieme così lo vediamo ieri praticamente ci sono avanzati dei bancali ma per realtà ancora non bastano quindi ce ne stiamo facendo portare ancora una trentina abbiamo iniziato a mettere le basi per fare una casetta per i bambini chiaramente è solo un'idea che abbiamo trovato tramite cercando su youtube dei video fare una casetta da giardino fai da te coi bancali eccetera eccetera queste mattonelle ci serviranno per fare un percorso giusto per non camminare sulla terra ma che poi sarà sistemato però per fare un percorso dentro qui dentro questo boschetto che piano piano stiamo mettendo al meglio quindi ragazzi se conoscete qualcuno che abbia delle mattonelle del giardino a non dico a niente ma una fesseria a un buon prezzo volentieri poi dal bro che sta sopra qui ci ha dato altre mattonelle però vabbè poi ce ne dà ancora stiamo facendo un altro barbecue qua vedete questo ci siamo messi anzi io ho portato i bancali da lì a qui Monica si è messa a fare ci hanno già detto a di che le mattonelle sotto non vanno bene comunque un modo si trova però l'idea poi ovviamente saranno avvitate tra di loro sarà fatta tutta la struttura fatta bene stiamo iniziando anche a creare questa cosa qui poi chi segue il canale da tanto tempo si ricorderà quando io stavo a terra del sole che con me c'era un big perché io non avevo ancora il camper tramite camper jobs che è il vecchio proprietario del nonno camper seguivo i suoi video ho conosciuto questo ragazzo ragazzotto che si chiama adi che c'ha vive in camper anche lui e ha un cane a di argo aveva anche un canale youtube poi vabbè per motivi suoi l'ha chiuso un pazzo scatenato ha un camper ducato modello due modelli dopo il mio penso chiaramente smembrato all'interno c'è una cucina da casa tutto rifatto da lui in legno e fine mese mi sembra che ha una pausa dal lavoro viene qui al villaggio a trovarci giustamente fa sempre piacere rivedere un personaggio come adi king numero 1 grande veramente fantastico come vi dicevo verrà a trovarci adi è lui praticamente un mago del fai da te quindi ci ha già dato delle dritte sulla casetta comunque quando verrà qui poi la cosa importante che lui ha il seghetto alternativo a lo smerigliatore flessivo test roba qua e quindi viene qua ci dà una mano e niente vediamo che ci possiamo inventare da costruire tanto legno ce lo devono portare poi seconda cosa allora io l'ho detto 350 mila volte però non lo so sembra o i video o non si capisce non lo so perché monica poi a volte mi dice ma perché lo dici sta roba che l'hai già detta lo dico per semplice motivo perché non lo so o la gente non ascolta oppure messaggio diretto a the wolf che sotto tutti i video scrive già ma posso venire già posso venire allora ragazzi the wolf se vedi questo video bisogna mandare un'email tu quando c'è il video descrizione la apri sotto c'è scritto email villaggio full timer che ho c'è la gmail.com mandate un'email all'indirizzo monica che lei più manager si occupa più lei di questo di filtraggio di robe di intrusi che magari vogliono venire qua a spiare a vedere mandate un'email lì e ci si mette in contatto si parla si vede quello che offrite per venire qua come fa di giustamente non è che viene qui sambrea che non fa un cazzo ci sta nel senso viene qui ci aiuta ci dà una mano poi ripeto si fa l'aperitivo si fa quello che è però ribadisco che non si viene qui a non fare un cazzo di niente o perché uno pensa di venire qua in vacanza non pagare un cazzo cioè non è così non si fa assolutamente così quindi ragazzi vi rinnovo l'invito chiunque chiunque voglia venire ragazzi mandate un'email villaggio full timer chioccio gmail.com da lì poi ci si mette d'accordo e si vede poi infine devo ringraziare anche michele che doveva venire a trovarci ma causa imprevisti impegni familiari non è potuto venire ci ha comprato anche lui un faretto col pannello solare da mettere qua in mezzo alle piazzole essere tornato pipo è andato via fatto una scappata andato in puglia è venuto qua a salutarmi stamattina con la moglie jane che saluto vi invito anche a guardare i suoi lui caccia fuori 50 video al giorno di droni stargli a presse difficile però è un professionista e sa il fatto suo niente quali sole splendida il villaggio full timer adesso tiro fuori i pannelli ricaricabili metto le cose in carica niente a poi cosa ho fatto abbiamo fatto un arrangiato perché dobbiamo prendere i paletti però abbiamo già provato e funziona abbiamo messo due canne qua una qui una qui tirato il filo questo qui è il nostro stendino temporaneo che però funziona benissimo abbiamo messo un altro qui qua nel frattempo per in caso di pioggia siccome la finestra non ha il vetro abbiamo messo questa copertura qui che era della pompa di rossano va alla grande altro stendino ho iniziato a mettermi da parte le canne per tenere su le piantine che verranno all'orto e boh basta dire che questo è ragazzi adesso come vi ho detto tiro fuori il pannello solare portatile metto in carica un po di power station come sempre ringraziamo tutte le persone che ci vogliono bene che apprezzano quello che stiamo facendo e boh bella storia anche per questo video tutto e noi ci vediamo come sempre al prossimo video ciao